L'iniziativa ha un po' il sapore di c'è posta per te, ma è anche un mix di chi l'ha visto e caramba che sorpresa. In realtà, scherzi a parte, ci è piaciuta molto l'idea di alcuni ex studenti del liceo classico di Sondro di ritrovarsi dopo 50 anni. Vediamo l'appello. È un'idea che è nata un po' di tempo fa, non molto tempo fa, con Fabio Schiantarelli, il mio compagno di scuola, che attualmente vive a Boston, nel Massachusetts, ed è professore di economia all'Università di Boston. In questo periodo di lockdown molto spesso ci si è sentiti con i vari strumenti che oggi si usano e si è detto, ma perché non vediamo di cercare di rintracciare tutti i nostri vecchi compagni di scuola del liceo classico Piazzi degli anni dal 64 al 69, per vedere un po' di ritrovarci, vedere che fine abbiamo fatto. Con molti non abbiamo più legami e collegamenti da oramai più di mezzo secolo. E così abbiamo cominciato a stilare l'elenco di tutti i nostri compagni, anche aiutati dal liceo classico, che ci ha fornito i nominativi, e pian piano siamo riusciti a raccimolare un gran numero di contatti. Per alcuni però non sappiamo più nulla. E allora questa era un po' l'occasione per lanciare un appello, adesso dico un po' i nominativi di quelli che ci mancano come indirizzi da poter contattare, in modo tale che se per caso dovessero sentire questa trasmissione, potranno mandare alla mia mail, che è angeloschenachiocciolatiscali.it, basta che mi mandino la loro mail e poi non li contatteremo. Ecco, i compagni di scuola che mancano al nostro appello, li dico qua in ordine alfabetico, sono Margherita Capitani, Paola Cardoni, Maria Rosa Cattaneo, Giovanni Battista Covatta, Ernestina Invernizzi, Rita Leali, Rosa Bianca Lepori, Anna Mastalli e Carmen Oliveri. Sono tutte persone che erano appunto compagne di scuola in quegli anni al liceo classico, se avranno la bontà di comunicarci una loro mail, perché l'intenzione nostra è, se ricordo giusto il 25 marzo, di ritrovarci tutti insieme sulla piattaforma Zoom e parlare un po' della nostra vita, di quello che abbiamo fatto da dopo il liceo in poi.